Massoneria deviata, commistioni tra politica, malaffare e pezzi delle forze dell'ordine, un quadro sconvolgente quello che si sta andando a disvelare sull'alto tirreno cosentino. I fatti di Plinius sembrano soltanto il prologo di ciò che nei prossimi mesi potrebbe saltare fuori coinvolgendo anche esponenti politici di un certo peso. Questa mattina il Tribunale Militare di Napoli avrebbe dovuto tenersi l'udienza preliminare nei confronti dell'ex comandante della stazione dei Carabinieri di Scalea, Ilario Castrenze, seduta saltata e rinviata al prossimo 11 novembre per legittimo impedimento del suo avvocato difensore Giorgio Cozzolino. Pesanti i capi di imputazione per il militare dell'arma che sostituì Mario Saullo, un nome che ricorrerà nuovamente in questa intricata vicenda. Castrenze dovrà rispondere di peculato militare, minacce nei confronti di suoi sottoposti per costringerli ad atti contrari ai propri doveri in subordinazione con minaccia ed ingiuria. Tutto parte nell'ottobre del 2012 quando il tenente Vincenzo Falce assume il comando della compagnia Carabinieri di Scalea. Il graduato rileverà in adempienze ritardi cronici nel disbrigo delle pratiche fino a disporre un'accurata ispezione sull'attività operativa di Castrenze. Tra le pratiche che accumulano cronici ritardi ci sono alcune denunce dell'avvocato Battista Greco, parte offesa in alcuni procedimenti a Paola e a Salerno, è oggi incaricato, insieme ad altri legali, nella difesa del capitano Falce e di altri sei militari proprio nel processo in cui è imputato Castrenze. Ma torniamo alla massoneria. Tra le carte rinvenute in un cassetto dell'ufficio chiuso a chiave spunta una comunicazione del marzo 2008. Nel documento consegnato a mano viene segnalata a Scalea la presenza della grande loge tradizionale simbolico opera francese, guidata da Oreste Dito, tra cui è presente anche il predecessore di Castrenze, Mario Saullo. Una comunicazione alla quale non farà mai seguito alcuna nota informativa nei confronti del comando. Nella lista dei fratelli della loggia francese risultano iscritte 12 persone, la maggior parte di questi residenti in campagna. E poi ci sono altri documenti scottanti, due segnalazioni anonime dell'aprile 2013. La prima parla di situazione insostenibile al Valle Lao, degli interessi della politica all'interno del consorzio e del presunto appoggio di Castrenze nei confronti dell'ex sindaco Mario Russo con fascicoli fatti sparire ad hoc. L'altra, arrivata successivamente all'allontanamento di Castrenze, al quale erano state sequestrate alcune armi, indica gli stumo e valente come capobastone della cosca muto su Scalea e segnala i responsabili dello spaccio di droga nei comuni altotirrenici. Da lì a poco scatterà l'operazione Plinius.